buongiorno a tutti siamo alla seconda edizione del golf de gusta al monferrato oggi la prima tappa a tervisio con il bellissimo paesaggio delle alpi giuglie oggi i cat nunc e aperelle si ritrovano come gli altri anni per presentare le nuove etichette di i cat nunc quest'anno abbiamo inaugurato la nuova cantina a vignale monferrato una cantina moderna ma allo stesso tempo a impatto zero sul sul paesaggio la giornata è stupenda e siamo pronti per andare in campo ultima tappa del golf de gusta al monferrato oggi siamo qui alla pinettina di appiano gentile per presentare i nostri vini del monferrato è un'occasione per presentare i nostri vini nella nostra cantina ed è un invito a venirci a trovare vignale monferrato presso la cantina i cat nunc a i a 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 Grazie a tutti.